Buonasera, benvenuti, anche se non ci siamo ancora tutti ma cominciamo perché altrimenti non vediamo. Io sono Roberto Andilier, sono l'addetto ciò che ha lasciato, uno piccolo degli organizzatori di questo evento e ringrazio immediatamente quelli che sono i due principali un altro ospite, Carlo Presenti che è il direttore del Vistuto di Cultura e Filippo Baglini dell'Italia Europea che ha fatto il motore dietro a questo evento che ha messo assieme praticamente in Italia. E poi ovviamente va da sé, ringrazio sentitamente due esternati italiani, Fiorello Chiello e Abbiano, Paolo Nesco di Roberto Vittori. Questo tipo di eventi e seminari fanno parte un po' della tradizione che cerchiamo di rispettare, sia organizzare congressi su temi scientifici e tecnologici, sia seminari su temi che abbiano una valenza tecnologica e che siano possibilmente anche di interesse per il pubblico at large come si diceva. Questo è uno avvenimento di quest'ultima categoria. Io credo che sia molto difficile da voi da trattenervi oltre misura a presentare due personaggi, due astronauti qui presenti, leggendo loro il curriculum, cioè il mio curriculum è il vicino al quesito, il curriculum sono cinque pagine ciascuno, cioè leggendolo uno si sente volare fra le stelle, cioè hanno veramente fatto delle cose notevoli, a parte andare nello spazio, più di una volta ciascuno di lui, anche guardando quello che è il loro background, anche il culturale, ma soprattutto guardando quello che è il loro background come professionalità, hanno fatto cose, insomma, il peso che sembrano quasi impossibili in un ergo di vita. Comunque complimenti, ci racconteranno meglio quelle sono le loro esperienze, come hanno vissuto in particolare le loro esperienze nello spazio. Un'altra cosa che ho notato è come, e questo non so che va in Italia, come loro in realtà nel fare queste loro esperienze in aerospaziale, siano gli italiani che lavorano per un'agenzia spaziale europea, hanno collaborato, sono volati con gli americani, hanno collaborato, sono volati anche per i lussi, quindi è un caso in cui veramente il mondo, perlomeno tutto il mondo che è dietro a queste esperienze, con i voli spaziali, con tutto quello che importano, con i avanzamenti della tecnologia, eccetera, è un caso di collaborazione globale. Molto bello da vedere. Loro ci diranno meglio poi come interpretano questa mia valutazione. Vorrei fermarmi a questo, per non rubare altro tempo al seminario, alle proiezioni che vorremmo, provo a richiedere gentilmente al Ministro Permanentario Stefano Montecor, che è il Viceambasciatore che conosceva l'Italia, di fare, specialmente, a parte dell'ambasciata dell'istituzione che ha abitato gli astronauti, di fare un long welcome a questo, perché credo che siamo tutti incontrivolmente onorati, in particolare Stefano Montecor. Credo che abbia piacere dire anche solo due parole di ringraziamento e di saluto. Stefano Montecor. Qualcuno ha bisogno di una traduzione inglese? Allora, ringraziamenti di Nicola Pochi, perché avevi già fatto il turno, ricordando i intervenuti, gli organizzatori. In effetti quello che io voglio mettere in luce è, assolutamente, la nostra felicità per la nostra presenza qui, per la tua idea di avere di volere questo seminario, per la sua presenza qui, anche perché l'Italia è associata sempre alla cultura, ma meno spesso di quanto meriti, alla scienza. Questo è uno dei settori in cui noi abbiamo una assoluta eccellenza a livello mondiale, che è dovuta non solo alla qualità delle persone elettorici umane che vi sono implicate, ne abbiamo due, in inglese direbbe High Flyers, perché nel vostro caso si è adatta perfettamente, ma anche per la qualità della nostra industria e, posso dirlo con un certo piacere, anche della capacità, per una volta, istituzionale, che è messa a servizio di una reale, lo ripeto, eccellenza europea, nel senso che noi abbiamo avuto un'interessante colloquia con voi prima di questa riunione. L'Italia è molto, molto avanzata in questo settore e molti di noi neanche lo sanno. Per esempio, adesso ce lo racconto da voi, quindi non è caso per sapermi io, ma siamo Magna di una parte della stazione spaziale internazionale. Due signori che ho chiamato una coppia di fatto, perché voi siete spesso insieme, voi due, avete lavorato per quanto riguardava Roberto, insieme con i russi. Credo che sia l'unica coppia che sia stata della stessa nazionalità che sia stata contemporaneamente europea, che sia stata contemporaneamente sulla stazione spaziale, che è una dimostrazione dell'Eccellenza. uno di voi due mi diceva che su quattordici assonati dell'ESA 10 sono italiani. Quattro anni. Quattro anni. Quattro anni. Quattro anni. Quattro anni. Ci sono attenzione dell'Eccellenza, proprio quello da solo e la nostra attività spaziale può registrare. Con questo credo di aver detto anche dopo. Grazie mille per essere qui, grazie di molto a voi, a te Carlo che mi dimentico sempre di ringraziare. E già già stati detto praticamente tutto, io passo a presentare nella rappresentanza rappresentanza del Presidente dell'Azio dell'Agenzia Spaziale Italiana, la qui presente, il dottorista Delfina Bertolotto, che ringrazio che sia venuta in questa serata, come ringrazio tutti voi. Paolo e Roberto, gli è stato detto, sono gli astronauti italiani che sono andati in orbita e si sono incontrati per la prima volta due italiani in orbita nella stazione spaziale orbitante, quindi è veramente un fatto storico che sigilla in questo punto l'Italia. E hanno portato in alto una bandiera italiana, nel vero senso della parola, quello che vediamo nel diapositivo, e l'hanno fatta sventolare in orbita. Io a questo punto lascerei subito la parola a Paolo e a Roberto, che ci introducono un po' in questo viaggio, immaginiamoci che in questa stanza diventa un'astronave e decolliamo con loro qui dal Londra. Prego Paolo. Sì, puoi iniziare anche da dire che inizia. Sì, ma il discorso è giusto. No, ma facciamo come inizia a parlare, allora la dottoressa ci inizierà a parlare un po' del ruolo che ha l'Agenzia Spaziale in questo progetto e come si interagisce con il miliardo italiano e l'Agenzia Spaziale Europea. Sì, grazie. Io prima di tutto vi saluto e vi porto i saluti del mio Presidente, il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana di Migliore di Cosaggese e vi ringrazio di averci consentito di partecipare a questo evento che pensiamo sempre importante perché, come diceva il Ministro, in fondo lo spazio è un settore di vita in cui l'Italia ha un'eccellenza particolare che non è conosciuta, probabilmente sarà anche il solito problema di comunicazione che abbiamo noi italiani, però sono queste le occasioni in cui ci piace poter divulgare la conoscenza di questa eccellenza. L'Agenzia Spaziale Italiana è l'ente governativo di ricerca che ha qui stato delegato alla gestione delle attività spaziali del Paese. Mi piace ricordare, rafforzare quello che diceva il Ministro, in particolare il ruolo italiano nel settore del ruolo umano spaziale e della Stazione Spaziale Internazionale perché l'Italia è l'unico Paese europeo che ha un doppio canale di accesso a questa cooperazione globale, ha un canale di accesso multilaterale attraverso l'ESA perché l'Italia è il terzo Paese contributore del programma ESA che ha realizzato il contributo europeo alla Stazione Spaziale e che ha istituito il corpo europeo degli astronauti a cui noi abbiamo integrato i nostri astronauti, ma ha anche un livello bilaterale privilegiato di cooperazione con gli Stati Uniti direttamente perché l'Italia è l'unico Paese europeo che ha un accordo intergovernativo bilaterale con gli Stati Uniti che recepisce un memorandum avant-stand bilaterale tra l'AS e la NASA grazie al quale noi abbiamo fornito tecnologie freggiatissime di cui poi vi parleranno loro più ampiamente ed in cambio abbiamo acquisito dei diritti nazionali esclusivi di utilizzo della Stazione Spaziale e di accesso dei nostri astronauti italiani alla Stazione Spaziale. Quindi diciamo che è un settore tra le varie attività spaziali di eccellenza italiana e questo è un settore proprio particolare perché ci ha messo sempre in una posizione assolutamente unica e off-standing rispetto anche al resto dell'Europa e di cui adesso siamo chiamati a raccogliere i prodotti. Io direi che non mi dilungo ulteriormente perché ovviamente i raccogli dei due nostri astronauti saranno assolutamente più interessanti e appassionanti quindi vi lascio la parola e poi se avete domande saremo in una posizione. Grazie. Grazie e al fine sicuramente vi veniremo a parlare anche con te. A questo punto vi darei la parola prima a Paolo, a Napoli e poi a Napoli.